Buonasera a tutti, benvenuti alla presentazione della nuova sede del club Monopattini Torino. Siamo di fronte al direttivo Sandro, Bianca, Cristian, il presidente Marco, Pietro Caterpillar e il grande Fabrizio. Ragazzi, questa è una serata memorabile. Adesso il presidente, dopo ha stappato la bottiglia, farà il suo discorso. Prego. Ci sono anche tutti i partecipanti. Siamo pronti? Prego, presidente. Grandi ragazzi. E' nato un amore, l'amore per i monopattini ragazzi. Questo è il club Monopattini Torino. Ovviamente ci sono anche io. Passo di bicchiere.